Al momento in Versilia ci sono sei pazienti ricoverati in terapia intensiva, però naturalmente oltre ai letti dedicati al covid in terapia intensiva c'è una parte di reparto che viene lasciato libero per i pazienti cosiddetti covid negativi, quindi è chiaro che questo numero di pazienti covid positivo non va a intaccare la possibilità di essere normalmente curati, accuditi in terapia intensiva se un paziente è covid negativo ed ha un incidente o deve essere operato di urgenza per qualche altro motivo. A fare chiarezza sull'effettiva capacità dell'ospedale Versilia di assorbire questa seconda ondata di ricoveri a causa delle complicazioni portate dal covid è responsabile dell'area medica dell'ospedale il dottor Vincenzo Panichi che conferma come la situazione ad oggi sia seria ma non tale da creare criticità eccessive alla struttura. Questo per quanto riguarda quello che viene definito reparto 1. Per il reparto 2, quello dei pazienti covid positivi che non necessitano però delle terapie intensive, la situazione è più complessa e in evoluzione quotidiana, tanto che l'azienda sta lavorando per aumentare la disponibilità di posti letto. abbiamo 64 possibilità di accogliere 64 pazienti. A stamani ne avevamo ricoverati 59. Cosa vuol dire? Dipende se uno è ottimista o pessimista. Diciamo che a qualche posto ce l'abbiamo ancora. Se continua però questo movimento ad aumentare dei pazienti è chiaro che questi posti non saranno più sufficienti. A tal proposito stiamo attrezzando proprio in queste ore la possibilità di aprire altri 22 posti letto covid. In ogni caso il dottor Panichi tiene a rassicurare la popolazione sottolineando l'importanza della rete e degli ospedali regionali, un sistema che garantisce di verificare in tempo reale le disponibilità di posti letto in tutte le strutture sanitarie toscane. Se Viareggio fosse tutta occupata, Massa fosse tutta occupata e arrivasse un paziente covid da intubare di urgenza magari potrebbe essere trasferito a Grosseto, a Siena. Capisco il disagio per tutta la famiglia per il paziente però qui si tratta di salvare la pelle.